Eccoci di nuovo insieme le notizie di oggi venerdì 5 di settembre. Parte anche nelle marche l'operazione piazza permanente organizzata dal sindacato autonomo di polizia. Con 40.000 poliziotti in meno nei prossimi anni, quasi 300 uffici a rischio chiusura e 80 questure in via di soppressione un terzo delle autovetture riparazione. Il 50% delle strutture non idonee o fuori legge rispetto alla 626. Continui tagli alle risorse. Per il SAP non rimane altro che mobilitarsi a oltranza. Il sindacato Balneari incontra il presidente Spacca. Sentiamo. Il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, ha incontrato mercoledì scorso una delegazione del Sib Conf Commercio, il sindacato dei Balneari Machigiani. Il presidente del Sib Enzo Monachesi ha sottolineato le diverse problematiche di quest'anno e le possibili soluzioni future. Abbiamo presentato al governatore quello che è l'analisi di questa terribile stagione dove il fattore meteorologico ha messo in ginocchio le imprese dal punto di vista degli incassi, degli introiti. Ma insieme a questo abbiamo pensato anche immediatamente a come si può correre ripari. Si racchiude in un solo termine che è destagionalizzare. Destagionalizzare vuol dire dare la possibilità agli imprenditori balneari che lavorano l'estate con il sole e il mare di lavorare negli altri mesi nello stesso luogo e quindi con strutture adeguate. Da questo punto di vista abbiamo trovato grande sintonia con il governatore che è d'accordo, che ha immediatamente intuito che uno stabilimento balneare aperto 12 mesi all'anno vuol dire posti di lavoro, vuol dire investimento e vuol dire probabilmente rilancio per un'economia. Il sindaco di Arcevia Andrea Bonprezzi insieme al presidente dell'AMPI Angelo Verdini hanno guidato una delegazione del comune che ha partecipato alla 71esima mostra del cinema di Venezia dove è stato presentato in anteprima nazionale un nuovo cortometraggio di Simone Massi in attesa del maggio e un documentario di 70 minuti animata resistenza realizzato da due ragazzi trevigiani su Simone Massi e le sue fonti di ispirazione, le colline marchigiane, la civiltà contadina e la resistenza. Terza edizione di Io corro per la vita, la passeggiata per la vita organizzata dalla Federazione Italiana Donne, Arte e Professioni Affari FIDAPA in programma domenica 7 con partenza alle 10 al Fora Nonario. La passeggiata intende promuovere un momento di aggregazione di sensibilità intorno ad un tema di interesse generale quale è quello delle malattie tumorali e dell'assistenza ai malati e alle famiglie che con essi hanno dovuto confrontarsi. Vederci camminare domenica 7 settembre ore 10 il Foro Nonario per le nostre due associazioni oncologiche Andos e Aos che lavorano incessantemente sul territorio per i nostri malati tumorali. Assistenza domiciliare, assistenza ai familiari, prevenzione e questo il discorso fondamentale che la FIDAPA vuole sempre passare di anno dopo un anno. Migliorare le condizioni della società femminile di chi sta effettivamente male, male, male e di chi li circonda. Quindi anche quest'anno ci ritroveremo per marciare, io corro per la vita, per le nostre associazioni oncologiche e per la nostra popolazione femminile. Colpo grosso di mercato per la Punto Più Senigallia che si appresta a disputare il campionato di Serie D di pallavolo femminile. In Casa Nerazzurra infatti è arrivata Elisabetta Saraga, esperta schiacciatrice pesarese, classe 75 con un passato addirittura in Serie A2 con la maglia dell'Urbino. È tutto per questo venerdì, grazie e buon fine settimana. Torneremo insieme lunedì prossimo. Torneremo insieme lunedì prossimo.